Mi dicono che potrò incontrare tre ospiti ogni giorno, non tutti hanno questo privilegio e cercherò di calarmela tra politici, giornalisti, ma poi essenzialmente anche tanta gente comune che come tutti si domanda il senso delle proprie azioni politiche, professionali, forse anche familiari. Non poniamo limiti agli interrogativi che possiamo porci, tanto l'intesa comunque è che tutto resti tra noi.